I saldi estivi del 2023 saranno innanzitutto trasparenti, come prevede il nuovo Codice del Consumo, che dal 1 luglio ricepisce il decreto legislativo del 7 marzo, introducendo per la prima volta anche una regolamentazione sulle vendite online. Le nuove misure obbligano i commercianti a esporre il prezzo pieno della merce, il più basso negli ultimi 30 giorni e infine il saldo, in modo da evitare possibili truffe con i famigerati sconti cosiddetti farlocchi. La spesa media delle famiglie quest'anno si aggirerà intorno ai 200 euro, ma pesa ancora il rincaro dei prezzi sulle materie prime che ha fatto lievitare i costi, costringendo i cittadini a vestire i panni dei funamboli alle prese con magistrali esercizi di equilibrismo per far quadrare i conti a fine mese. E dunque da oggi via i saldi, con la data unica del 6 luglio in tutta Italia, per evitare un'inutile concorrenza tra le regioni, con l'unica eccezione della provincia autonoma di Bolzano, che partirà con gli sconti stagionali il 14 luglio. Le novità introdotte dal nuovo codice del consumo sono più che mai importanti perché, come spiega Marina Dolci, presidente di Confesarcenti Pescara, finalmente a livello nazionale ci sarà un controllo anche degli outlet e dei centri commerciali, nel senso che noi attività di vicinato e comunque del dettaglio abbiamo sempre scritto il prezzo iniziale, la percentuale di sconto e il prezzo netto. Invece negli outlet che dovrebbero fare uno sconto sempre uguale tutto l'anno e non partecipare ai saldi, si creava questa situazione, perdendo di vista il prezzo iniziale a cui veniva invece aggiunto uno sconto ulteriore e non si sapeva la partenza e poi il prezzo netto o giusto. Sempre come Confesarcenti e anche altre associazioni stiamo chiedendo di posticipare questa data. Una volta il cambiamento climatico oppure ci sono anche delle altre problematiche economiche, la chiusura delle scuole, il cliente comunque aspetta per poter andare in vacanza, quindi noi veramente da luglio, da questi giorni stiamo cominciando a vendere. Il commercio è cambiato, ci sono sempre tante promozioni, può essere il Black Friday, può essere le promozioni di Natale, la primavera, Pasqua. Non abbiamo mai un periodo dove il prezzo, un prezzo giusto alla vendita è quello reale e quindi non riusciamo ad avere un guadagno adatto. Le attività hanno ancora sofferenza a livello di bollette e ultimamente sia le attività che le famiglie abbiamo un problema dei mutui, dei tassi che sono aumentati e l'economia sta soffrendo di Pescara ma anche di tutta l'Italia. Primo giorno di saldi hai già fatto acquisti? Sì, sì, qualcosina ho comprato. Possiamo chiederle cosa? Ho comprato qualche regalino, un paio di scarpe per me, faremo degli acquisti sicuramente. Ho visto una borsa per mia moglie forse, poi vedremo. Per lei? Per me se ci scappa qualche polo, qualche maglietta. Gli sconti la soddisfano? Sì, devo dire che abbiamo iniziato bene, quindi speriamo di continuare e di approfittarne. Francamente manco mi ricordavo che iniziano i saldi oggi, quindi... Comprerò qualcosa se occorre estro, qualcosa di conveniente. Con calma però, ci pare di capire? Dici no, adesso vado al mare. Vacanza? Vacanza a Torino, sì. Quindi tornerete per il nostro mare? Sì, 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 sicuramente. Anche per i saldi magari? Anche per i saldi. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.